se fossi papa salvere tutto il mondo direi di inquinare meno se fossi papa farei fare le cose giuste politiche vorrei tanto che le persone scegliessero il bene non il male darei da mangiare i più poveri se fossi papa darei staff al bullismo andrei a trovare tutti i bambini in ospedale se fossi papa mi facessi dalla finestra di San Pietro e facessi il giro del mondo se potessi fare un miracolo farei guarire tutti i bambini e tutte le persone del mondo mi metterei a posto la spalla da solo se potessi fare un miracolo sconfiggere la guerra e portere la pace al mondo anche se è difficile però io ci vorrei sempre provare non si vuole se potessi fare un miracolo mi piacerebbe che tutti i negozi i giocattoli e il cibo fossero gratis vorrei conoscere i miei nonni che non ho conosciuto è un miracolo che ci vorrebbe quest'anno e far vincere lo scudetto a Roma ciao papà